Siamo certi che la tua casa sia sicura? E il luogo dove lavori? Come amministratore di condominio o datore di lavoro, sei consapevole delle responsabilità e dei rischi a cui vai incontro? Cosa sai di norme anticontagio, sicurezza antincendio, analisi dei rischi come amianto e legionella? Sei in regola con la normativa privacy? Non accontentarti. La sicurezza delle persone merita il meglio. Gestirsi Service è il tuo punto di riferimento nella consulenza in materia di sicurezza per le aziende e i condomini. Chiedici informazioni.